Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus Oggi siamo qui con una nuova serie, una nuova serie naturalmente che vi piaccia e che dobbiamo supportare per portarla avanti Sapete benissimo che sul mio canale i giochi LEGO vengono sempre portati perché mi piacciono un casino Naturalmente, obiettivamente, dovremmo aspettare un pochettino perché se non sbaglio LEGO Dimensioning Usciranno alcuni level pack o story pack intorno a maggio, quindi c'è ancora da aspettare E' vero che tra un po' uscirà LEGO Worlds, che poi chissà per quale motivo a noi è uscito il 10 Mentre invece negli altri paesi è uscito il 7, vabbè ma lasciamo perdere, sapete benissimo che lo porterò Però lì ci sarà praticamente una parte a parte che verrà fatta, non è proprio un gameplay Sono degli episodi che poi farò, ma sicuramente lo porterò Ecco perché volevo portare anche una storia per ciò che riguarda LEGO Ho deciso di portarvi LEGO Indiana Jones ma il primo Non voglio assolutamente commettere l'errore che ho fatto già con Bachman Portando in pratica il terzo episodio e non andandovi a fare i primi episodi Quindi volevo portare il primo Mi rendo conto che il gioco è del 2008, è un po' vecchio Però ragazzi sono sempre una figata pazzesca perché le ammettazioni sono fantastiche E poi fanno ammazzare da ridere Del resto abbiamo portato, ho portato anche un gameplay per ciò che riguarda Hulk Che era, se non mi sbaglio, del 2004 Vi ha fatto ammazzare le risate, vi è piaciuto un casino Quindi le date sono relativamente importanti Quindi naturalmente se vi piace questa serie sapete benissimo che cosa fare Mettete un bel like su, un bel commento e un bel mi piace Ok ci siamo Diciamo che già solo la musica mi fa gasare in una maniera esagerata Comunque nel primo episodio questo dovrebbe trattare in pratica i primi tre film di Indiana Jones Comunque partiamo con le avventure originali Abbiamo passato un po' alcune cose Spero che la musica non sia troppo alta Effettivamente Ah ok la mettiamo a 7 Che forse Magari mi fate sapere voi se è troppo forte Quindi iniziamo la nuova partita E vediamo E vediamo quasi becchiato è pensare che c'è qualcosa lui sa tutto sa tutto perché ti ridi ok il tempio perduto iniziamo già subito chi abbiamo vabbè questo lo sappiamo noi siamo esperti abbiamo pure alza tipo indiana jones vabbè ok i tasti dovrebbero essere quelli che sono e quindi non ci dovrebbero essere nessun tipo di problema rompiamo anche quest'altro di qua e andiamo avanti ma se ce l'abbiamo beccato uno vai è ok siamo già riusciti in un primo salto avvicinati ok aspetta però non essere così aggressivo già ci stai colpendo porca paletta allora vediamo un po se c'è qualcosa che possiamo costruire tipo questo ok attenzione qua ci dice di saltare penso mazza che salti che fai perché paletta che salti che fai aspetta vediamo un po previ per usare la frusta veramente abbiamo anche la fusta porca miseria ragazzi ci abbiamo attenzione attenzione di assestati leggerissimamente precipitando ora fatti insomma gli oggetti leggo sempre libili se hai una pala per me per distotterlarli allora io non c'è una pala forse ce l'hai te certo certo ce l'hai ce l'hai vai vai schiava schiava giustamente il lavoro duro non lo facciamo fare indiana e che 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 non lo c'è qua porca miseria la paletta facciamo andare avanti indiana perché lui quello che comanda attenzione no qua non c'è niente o la musica si fa abbastanza ok questi colpiscono questo dalla roba non è che a cosa c'è qualche combinazione particolare no vabbè andiamo avanti e vediamo mi sa che c'è bisogno sempre di te devi schiavare vai ragazzo vai è un po più veloce però datti una mossa è che chiaro ok allo metto qua lo metto qua te vai bravo mi sa che forse lo devi spingere ora questo lo facciamo fare a te perché tu sei quello passaggio segreto vai mi sa che qua si è abbassato qualcosa un po ma indiano vai perfetto ma non sembra che ok ci sono due tasti perfetto vai passaggio segreto possiamo avanzare e costruiscimi che bella fontana che c'è che c'è una zattera aspetta ti serve una pala per remare e divenire tu ragazzo vai vai ce la fai vai un coccodrilli coccodrilli devi remare vai andiamo andiamo oh c'è un coccodrilli mi scusi attenzione spostatemi spostatemi fatemi passare vai 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 vabbè tanto indiana è passato quindi stiamo tranquilli vai ok allora là c'è qualcosa che dobbiamo costruire vai perfetto non so se devo anche becchiare il no vabbè era solamente per i punti vabbè non fa niente io penso che poi questi attenzione attenzione ragno porca miseria sono uscito all'improvviso va gli direi di utilizzare la fusta e becca tutti becca becca non fa niente andiamo avanti oh attenzione ma questo non vale però ok attenzione vai vai bravo basta questo no no aspetta attenzione vai vai gettiamoci dentro gettiamoci dentro ok ce l'abbiamo fatta allora qua c'è qualcosa e c'è anche la schiava quindi è probabile che doveva andare in qua non è che ho capito bene bravo ok mi piace allora guarda allora facciamo si guarda è indiana se non ti devi rimanere qua ecco bravo beh oh allora previ per raccogliere gli oggetti ah ecco giustamente dopo oggi qua eh aspetta aspetta scusami c'ha ragione aspetta vai vai lo metto qua eh va beh non capisce scusami aspetta facciamo così uno l'ho messo qua e va bene non penso che lo puoi raccogliere aspetta andiamo qua vai vai passa bravissimo ok e vai bene così ok cosa stai facendo hai bloccato l'ingranaggio ma bravo sei un tipo intelligentone proprio perché miseria c'è il cervello che ti scureggia ok vai dall'altra parte bravo oh attenzione siamo ripetutamente caduti scusami un attimo aspetta vedi qua vai attenzione vai perfetto e vai pensavo ci fosse un topo qualcosa allora qua c'è qualcosa ok meno male mi piace questa cosa della fusta eh bravo indiana mazza ci ha messo 20 minuti questo è un passaggio segreto no ci ha messo 20 minuti per costruire sta schiava ok vai io mi arrampico vieni con me vieni non ti preoccupare stai tranquillo che non moriamo qua mazza che luce che c'è proseguiamo da quest'altra parte e va attenzione attenzione oh facciamo attenzione perché sta anche cadendo attenzione ok ce l'ho fatta eh ce l'ho fatta con un pochettino di difficoltà ma ce l'abbiamo fatta allora non è che ho capito aspetta eh ah ok perfetto aspetta 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 ok no aspetta un attimo che ok perfetto possiamo entrare vai vieni vieni con me vieni oh attenzione oh ma ste trappole sono infammi proprio porca miseria poi ce l'ho infilzato ce l'ho infilzato ancora ancora vai colpisci colpisci oh mi dai la mano eh c'ha sto ragno gigante addosso porca paretta eh dagli un colpo dagli un colpo ti serve una chiave per far funzionare questo meccanismo trovane una ok ci serve una chiave otto che culo così all'improvviso vabbè non fa niente ok ti serve una chiave l'ho già messa la chiave scusami ma devo far girare si bravo ah perfetto iniziamo subito ah ok credo che dovrebbe andare bene che fai ti nascondi tu? che c'è là? oh oh vabbè stai calmo fai attenzione eh ok stai calmo stai calmo non succede niente quasi niente ok credo che sia successo qualcosa e dobbiamo anche scappare se no moriamo come in questo caso praticamente siamo già vai 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 gettati dentro e andiamo passami indiana che forse facciamo prima vai ce la fai indiana? yes ma lui è agile è agile porca miseria che è sto co oh attenzione vado con lui vado con lui vai 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 non ci fermiamo non ci fermiamo vai porca miseria sono aspetta che sono caduto andiamo su andiamo su andiamo andiamo su oh tanto ho fatto che sono che sono caduto attenzione attenzione vediamo se ce la facciamo ok dove stai? forza ok e no ah ok ho capito perfetto vabbè ha funzionato e siamo morti dai che ce la facciamo attenzione attenzione perché sei perché sei così veloce io sono troppo lento non ce la fa ma porca miseria la vecchiaia la vecchiaia vai non perderti in queste capriole vai vai ok rallenta rallenta ce l'abbiamo fatto allo stesso ciao c'hai visto non va bene ma che volete star wars oh i richiami li fanno sempre io avrei preferito il diamante ci avete tradito prima avete fatto così e poi ci avete colpito super bastardi ok ragazzi il primo episodio la prima parte termina qui naturalmente saprete benissimo che cosa fare se vi piace questo genere di video mettono un bel pollice in su un bel commento e un bel mi piace fatemi sapere la vostra mente ci stanno super menando detto questo spero come sempre questo video vi piace mi piace se vi commentate se vi piace noi ci vediamo in un secondo video e bye bye